Diamo la parola all'onorevole Frongia, prego onorevole. Grazie Presidente, Assessore, colleghi. A nostro avviso è importante, prima ancora di parlare di bilancio, fare una premessa. Una premessa che ha a che fare con legalità e trasparenza. Cioè, a nostro avviso, il passo zero, quello prima del piano di rientro, prima del bilancio, prima di chiedere sacrifici, è quello del percorso obbligato, promesso in campagna elettorale da Marino, per ripristinare un sistema di legalità e trasparenza. Ora, non parliamo di concetti astratti, parliamo di qualcosa come 60 miliardi di euro all'anno. Questo è quello che ci costa, ad esempio, la corruzione per l'Italia. 60 miliardi di euro l'anno, per capire, insomma, parliamo di circa tre volte il gettito complessivo dell'Imu per il 2012. Chiaramente è una cifra per tutta l'Italia, ma per Roma chiaramente non fa eccezione. Non fa eccezione, anzi, di questi 60 miliardi, probabilmente almeno cinque fanno parte della corruzione della capitale. Inoltre, per quanto riguarda il sistema delle aziende municipalizzate, su scala nazionale, come più volte rilevato dalla Corte dei Conti, parliamo di un ecosistema di oltre 7 mila organismi privati, partecipati dagli enti locali, con centinaia di migliaia di dipendenti. Complessivamente parliamo di oltre 34 miliardi di euro di indebitamento. La Corte dei Conti l'ha definito un cancro. Roma non solo non fa eccezione, ma è la prima, è la prima per numero di aziende di primo e secondo livello, ma anche per le aziende che sono partecipate da parte delle aziende di primo livello. Acea possiede oltre 80 aziende, e quindi naturalmente parliamo di altri dipendenti. Complessivamente si arriva quasi a 100 mila dipendenti del gruppo Roma Capitale. Quindi per noi è importante una considerazione preliminare. Qualsiasi piano di rientro, qualsiasi bilancio, qualsiasi manovra, non potrà mai avere un reale successo se prima non si ripristina un sistema di legalità e trasparenza, e noi non ci stancheremo di ripeterlo. Era circa un anno fa, 12 mesi fa, ho citato una frase che oggi credo sia il caso di ripetere. I latini spesso riprendevano una frase del Vangelo che dice è necessario che gli scandali avvengano, quindi è necessario che gli scandali avvengano. A significare che cosa? L'esigenza poi ovviamente di ripartire da un sistema più pulito. Infatti la frase continua con Guai a chi ha causato lo scandalo. Ecco, a Roma abbiamo seguito esattamente le indicazioni della prima parte della frase, ma della seconda effettivamente non ce ne sono tracce. Questi guai a chi ha causato lo scandalo è esattamente la parte che dimentichiamo sistematicamente. Quindi la più grande critica che muoviamo a questa amministrazione in questi primi 13 mesi è proprio questa occasione mancata. C'è l'assenza di questo percorso verso la legalità e la trasparenza, e questo avviene prima ancora al piano di rientro e prima del bilancio. secondo punto, piano di rientro, ma esiste, è esistita una cabina di regia per il piano di rientro, ma prima ancora è esistita, esiste e gode di ottima salute, la commissione per la riforma e la razionalizzazione della spesa che presidiamo noi, che sta lavorando da quasi un anno e che è sistematicamente ignorata sia dal sindaco che dalla cabina di regia. È ignorata però, abbiamo notato che il piano di rientro che abbiamo fatto noi il 7 aprile e notificato al vice sindaco Nieri e consegnato a mano al sindaco il 25 aprile è stato ripreso in parte nel piano di rientro. Alcune delle nostre idee, alcune delle nostre proposte sono state prese con il copia e incolla, certo, solo alcune, infatti il piano di rientro per noi non è affatto coraggioso perché non si è spinto oltre, è stato un timido copia e colla. Però è importante da questo punto di vista sottolineare come il gruppo Capitolino e la commissione in questo caso abbiano da subito iniziato a lavorare per proporre delle alternative all'aumento delle tasse, cioè in questi giorni andremo ad approvare un aumento delle tasse a fronte di una drastica riduzione dei servizi per i romani mentre noi avevamo trovato oltre 500 milioni di euro di sprechi che potevano essere ripianati nell'arco di 1, 2, 3 anni e che sono stati ignorati. Abbiamo fatto poi una presentazione in piazza magari mi rivolgo più da questa parte visto che a sinistra non mi ascolta nessuno e abbiamo presentato una lista di oltre 3 miliardi di euro di sprechi individuati e sono solo una parte tanto per essere un po' più precisi naturalmente la medaglia va a Veltroni i grandi sprechi poi andiamo a investigare alla fine c'è sempre lui allora faccio qualche esempio metro C aumento dei costi complessivi del progetto siamo a oltre un miliardo di euro oltre un miliardo di euro vietato dire non ci sono i soldi lo ripetiamo da un anno continuano a dirci che non ci sono i soldi per assumere i nuovi dipendenti per riparare le buche per l'assistenza ai disabili per abbattere le barriere architettoniche eppure i soldi si trovano per gli sprechi l'imu non pagata di moltissimi soggetti terzi alla quale poi non andiamo a chiedere nulla la città dello sport Stefano mi conforta in questo parliamo di oltre 500 milioni di euro tra il primo e l'ultimo preventivo di spesa gli aritrati del condono di lizio i punti verdi di qualità che ci andranno a costare forse centinaia di milioni di euro il centro congressi nuvola di Fuxas sulla quale abbiamo più volte denunciato i costi per ora lo spreco è solo di 2-300 milioni di euro questo tra il consuntivo e il preventivo ma possiamo ancora fare meglio visto che i lavori non sono terminati anzi stiamo ancora in alto mare mega stipendi delle municipalizzate contenziosi vari servizi che paghiamo ma che poi non vengono fatti dalle aziende ne parleremo tra poco insomma la somma è di oltre 3 miliardi mai noi non vogliamo mai più sentire che non ci sono soldi ne parleremo proprio adesso nel bilancio e ovviamente non possiamo non parlare di bilancio non possiamo non parlare di urbanistica laddove parliamo di bilancio e di soldi e qua sì una notizia vogliamo darla noi siamo con Marino noi noi siamo con Marino siamo con il sindaco Marino quando prometteva nel suo programma elettorale e recentemente anche Raggi l'ha letto in qui in quest'aula prometteva e leggo letteralmente questo cambiare rotta è indispensabile e urgente per farlo occorre però arrestare l'espansione e prendersi cura del territorio e della città esistente e poi Roma ora deve ricominciare a prendersi cura del proprio territorio questa crescita senza fine e senza qualità è un danno per il paesaggio l'ambiente e la città e non reca alcun vantaggio duraturo né per i suoi abitanti né per le imprese le città europee sono da anni impegnate nel mettere in campo modelli di sviluppo urbano alternativi a quelli della continua espansione e del consumo di suolo ma è bravissimo questo sindaco nello scrivere il programma elettorale pagina 41 è una delle più importanti che ogni tanto andiamo a rileggere ma cosa accade a Roma vediamo cosa ha promesso Marino e cosa accade lo diceva stamattina il nostro capogruppo De Vito una perfetta ed incredibile continuità con la consigliatura precedente attenzione perché sta succedendo da un punto di vista semantico una vera e propria mutazione genetica oggi si fanno delle cose che sotto alle manno erano considerate il male assoluto densificazioni compensazioni le delibere procedimento erano il male assoluto per la città per il paesaggio ora le stanno portando in aula ora dicono che esistono le densificazioni buone le compensazioni buone eccetera sono le stesse delibere parliamo di milioni di metri cubi di nuovo cemento addirittura a braccia aperte è stato accolto dall'assemblea non certo da noi il piano casa ma non solo quello di Polverini che è rimasto intatto perché Zingaretti che l'aveva fortemente criticato l'ha mantenuto così nella sua vergognosa elaborazione non solo abbiamo fatto entrare a Roma il piano casa di Polverini ma anche quello di Alemanno con le sue densificazioni e sono già passati in aula due o tre settimane fa e dove erano i giornali come Repubblica il messaggero il Corriere e gli altri nemmeno il fatto dove hanno denunciato queste nuove delibere eppure le stesse delibere quando erano arrivate in aula Giulio Cesare qualche anno fa due anni fa erano state criticate addirittura con due intere pagine da Repubblica Roma una mezione speciale merita l'ex caserma Guidoreni attenzione un'ex caserma quindi del demanio è pubblico è di tutti noi ora noi oggi secondo Marino Caudo e la maggioranza dovremmo gioire che questo bene pubblico è diventato privato ma che il privato è buono e ci lascia una parte per fare un bel progetto partecipato e farci un museo della scienza il 4 marzo abbiamo fatto una commissione ho chiesto al direttore di Cassa Depositi e Prestiti ma quanto costa questa cittadina della scienza ce l'abbiamo i soldi ma costerà 40 milioni interviene l'altro direttore ma facciamo 20 e il direttore dell'urbanistica dice e non ci sono nemmeno quelli i soldi non ci sono nemmeno quelli sarà un'altra opera che andrà a compimento e noi dovremmo gioire di questa esperienza di questa partecipazione e a proposito di soldi l'urbanistica questa urbanistica avrà un impatto forte su questo bilancio e su quelli prossimi infatti lo sviluppo urbanistico caotico di questa città penso per esempio all'assenza di servizi soprattutto in termini di urbanizzazione secondaria ha elevati costi diretti e indiretti sulla cittadinanza oltre il fatto che relega oltre un milione di persone in delle periferie che sono rese invivibili e che secondo Veltroni dovevano essere delle meravigliose centralità andatele a vedere anzi andatele a vedere molti di noi ci vivono e quindi sanno perfettamente di che cosa parliamo altra menzione speciale al progetto dello stadio della S Roma diciamolo 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 non è vero che il progetto sarà interamente a spese del privato è falso il privato non tirerà mai fuori un miliardo di euro per questo progetto in parte i soldi saranno anche quelli nostri e stiamo analizzando la documentazione proprio per formulare precisamente e puntualmente una critica su questo punto però intanto anticipiamo qualche cosa qualche cosa che non leggiamo scritta da nessuna parte il progetto richiama esplicitamente l'applicazione dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 per gli impianti sportivi comma 305 eccetera che dice laddove è possibile siano realizzati prioritariamente mediante gli stati sta parlando mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzate in aree già edificate già qua c'è una prima violazione lo stadio in quell'area di Tordivalle rappresenterebbe una importante variante del piano regolatore quindi è chiaro che sarebbe stato lecito prima fare richiesta di una verifica di assoggettabilità avvassa ma non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo non ci sarebbe nemmeno bisogno di sottolinearlo ma così non è stato e infatti visto che parliamo di una variante dobbiamo anche chiederci ma questa trasformazione urbanistica che impatto ha strategicamente con gli impianti connessi perché ovviamente non sarebbe l'unico stadio avremo lo stadio olimpico lo stadio flaminio c'è c'è l'ippodromo di capannelle insomma in linea di principio generale su questo progetto per quanto ci riguarda c'è una forte contrarietà c'è una forte contrarietà legata anche all'area al discorso dell'interesse pubblico che a nostro avviso non c'è ma all'area nello specifico e infatti dal punto di vista ambientale e paesaggistico idrogeologico e della sicurezza in generale è evidente l'impatto che avrebbe su quel territorio così come anche sulle zone limitrofe cioè parliamo di una zona tra l'altro anche Roma lo è ma in quella in particolare soggetta ad eventi alluvionali ultimamente divenuti anche molto frequenti più frequenti in questi ultimi anni che in quelli precedenti e c'è un'area a rischio di una esondazione catastrofica cioè non vorremmo che poi realizziamo uno stadio per giocarci a calcio e ci ritroviamo a farci la palla a nuoto e quindi avremo modo di approfondire perché oggi il mio intervento è di soli 45 minuti l'intervento complessivo che abbiamo preparato è di circa 40-50 ore visto che da qui all'approvazione del bilancio passeranno moltissime settimane giorno e notte in cui vi esporremo singolarmente quali sono le problematiche di questi singoli progetti sull'urbanistica purtroppo non c'è l'assessore Caudo se no avrei ripetuto come ho già fatto varie volte in aula e in commissione che noi non condividiamo il suo tour spettacolare in giro per i municipi per la partecipazione a parlare male a criticare del piano regolatore e delle compensazioni però allo stesso tempo portarle avanti a spada tratta perché la legge perché bisogna rispettare gli impegni eccetera è un assessore un professore un docente universitario di trasformazione urbanistica potrebbe anche fare un nuovo piano regolatore concludo con la citazione di un urbanista che 50 anni fa scriveva 50 anni fa quindi si parlava non di questo piano regolatore ma di quelli precedenti a Roma sta succedendo un fatto strano tutti occupati tutti presi dai problemi del piano regolatore e gli architetti non parlano più di architettura e non parlandone e non scrivendone finiscono col non farne sembra che si sia rimandato il problema a un momento più calmo successivo si ne die ma intanto si costruisce lo stesso e l'edilizia quella che sanno fare tutti anche i costruttori i pizzicagnoli o i costruttori fabbricanti di caramelle di laga ovunque e passiamo al patrimonio strettamente collegato all'urbanistica il nostro comune come diceva Marchese del Ghillo e già l'abbiamo citato varie volte è bravissimo a pagare il doppio dai fornitori esterni per qualsiasi cosa ma poi se deve vendere qualcosa di proprio lo svende alla metà magari alla metà magari non riusciamo a trovare nulla svenduto alla metà e tutto quanto al 10 al 5% al 2% 0 è francamente insopportabile da cittadino prima di tutto regaliamo con i soldi nostri immobili stadi podromi appartamenti poi però come dicevo prima ci lamentiamo perché non ci sono i soldi per pagare per riparare le buche per assistere i disabili ristrutturare le scuole e ci troviamo a ridurre i servizi perché già adesso stanno riducendo servizi come quello ATAC allora sul patrimonio censimento del patrimonio immobiliare siamo fermi all'80% ma anche in quell'80% non c'è un allineamento tra le informazioni del database comunale con quello delle agenzie delle entrate parliamo quindi di archivio statico di nessuna utilità per il cittadino noi al momento sappiamo di non sapere cioè noi non conosciamo esattamente quali sono i beni immobili che possediamo pensate come possiamo affrontare l'emergenza abitativa se non sappiamo nemmeno che cosa abbiamo allora ho deciso che da ogni in ogni mio intervento da qui fino alla fine della consigliatura che potrà essere magari fra pochi giorni se il bilancio non viene approvato da qui a settembre oppure fino al 2018 ripeterò sempre la stessa domanda Assessore Ozzimo Assessore Nieri Sindaco Marino ma che cosa aspettiamo a cacciare via delle famiglie ricche 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 parlo di oltre 100.000 euro l'anno che abitano nostri appartamenti in centro storico pagando un affitto di 200 euro al mese ma di che cosa parliamo stiamo qui ad aumentare le tasse e lasciamo che delle persone entrate grazie al favore di qualche politico 5, 10 o 15 anni fa e che sono ricche stiano lì a spese nostre sappiamo i nomi sappiamo dove stanno hanno l'affaccio su Via del Corso hanno l'affaccio su Fontana di Trevi sono a due passi da Trinità dei Monti e noi qui a chiedere l'aumento delle tasse questa è una cosa vergognosa è una cosa vergognosa e allora cambio argomento ma sempre lì torno a soldi nostri sprecati noi paghiamo le aziende municipalizzate che sono nostre per fare dei lavori che non fanno ho un esempio piccolissimo ho scoperto ce ne abbiamo tantissimi quanti ne volete volete oltre 30 milioni di euro l'anno paghiamo l'ama per pulire il verano che però non viene pulito 30 milioni di euro l'anno dal 2005 a oggi 30 milioni di euro l'anno andate a vedere come stanno le lapidi le tombe di due personaggi così come Mameli e Garibaldi una vergogna e noi paghiamo parliamo un po' di personale ho cenato prima personale di Roma Capitale e della macrostruttura noi avremo bisogno realmente di una seria riorganizzazione della macrostruttura non quella che è accaduta nel 2013 che ha seguito l'assessore Nieri che tra l'altro ha confermato moltissimi dirigenti apicali scelti nella precedente consigliatura fortemente criticati addirittura criticati nella relazione del MEF cioè proprio ad personam ma che sono ancora al loro posto poi il comune ha un disperato bisogno anche di nuove leve di personale giovane formato e aggiornato e ovviamente penso che lo spiraglio aperto dal decreto 90 che ha il 60% del blocco del turnover dovrebbe essere preso in considerazione dall'amministrazione cosa che attualmente non sta facendo ed è comparso l'assessore Ozimo che ho citato pochi secondi fa e quindi sono ben contento però è scomparso l'assessore al bilancio stiamo parlando di stiamo parlando di bilancio e quindi chiediamo come già accaduto in precedenza di sospendere la seduta fino al ritorno dell'assessore al fine di poter esporre le nostre linee sul bilancio di poter e poi ha un'assessore di poter e poi è un'assessore di poter